Francavilla ha aderito con grande piacere a questa iniziativa promossa dall'Associazione Nuova Sterope che voglio ringraziare, l'Associazione Commercianti Francavilla che spende tanta energia proprio anche sul nostro territorio e dall'organizzazione No Profit Chivanis con il patrocinio del Comune di Francavilla, dell'ASL, della provincia di Chieti è una splendida iniziativa perché è finalizzata a promuovere l'importanza della prevenzione della salute. Ci saranno numerosi specialisti, medici e ospedalieri che metteranno a disposizione le proprie competenze per screening in materia di dermatologia, ginecologia, diabetologia, dietologia, endocrinologia e così via. Sono tantissime specializzazioni, invito davvero tutti a partecipare perché è un momento importante in cui con un costo simbolico perché il prezzo per la visita è di 10 euro per gli adulti e 5 per i bambini si può veramente fare tanto perché prevenire è sicuramente meglio che curare e dopo questi anni di pandemia in cui veramente la prevenzione è stata trascurata è importante tornare a parlarne e a occuparsi di prevenzione. Dopo il Covid noi abbiamo riscoperto l'importanza del bene salute per cui è un bene sociale, è un bene individuale e chiaramente come istituzione ASL siamo ben lieti di aver dato il patrocinio a un'iniziativa che coinvolge tutta la città di Francavilla insieme al Comune e il volontariato. Un'iniziativa importante che arriva dopo due anni di pandemia dove purtroppo molti hanno trascurato la prevenzione quindi più che mai ora è importante farsi visitare e curarsi. Sì, noi abbiamo visto su tanti temi, specialmente anche sugli scrini oncologici un calo perché le persone anche invitato non si sono presentati chiaramente abbiamo anche qui una prevenzione che parla anche di prevenzione in età pediatrica su questa iniziativa che è altrettanto importante perché ci sono tanti temi a partire anche dalla socializzazione che è venuto a mancare in questa pandemia oltre chiaramente a tutto il tema del fumo e dell'alcol e ci avviciniamo all'estate dove sappiamo la vita dei giovani all'aperto è dovuta anche a questo e io ringrazio tutti i professionisti, i medici che si sono resi disponibili anche i miei dipendenti gratuitamente a fare un'informazione sulla prevenzione a tutta la popolazione sia da giovani che da adulto e anche in età geriatrica. Grazie